Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve. Oggi dedichiamo un tutorial intero ai grafici e in particolare oggi ci concentreremo sul parade, altrimenti detto allineamento. Vedremo come leggerlo per andare a interpretare tutte le modifiche che stiamo effettuando all'interno della color page. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare, quindi il parade all'interno della color page. Ripartiamo dall'esempio trattato nel video precedente quando abbiamo parlato del fissaggio automatico dei punti di nero e dei punti di bianco. Se hai dei dubbi ti invito a riguardare il tutorial precedente di cui ti riporto il link qui sopra e anche in descrizione. Dobbiamo andare a controllare se il lavoro è stato fatto correttamente, in particolare sul colore, cioè se abbiamo sbagliato a prendere il punto di nero e il punto di bianco può succedere che in realtà io abbia un bilanciamento errato sui neri e sui bianchi. Questo cosa comporta? Comporta che il mio punto di bianco in realtà non era quello che avevo selezionato ma era un altro e sul punto di bianco effettivo non avrò un bianco ma avrò una dominante di colore e questo si ripercuoterà su tutta l'immagine. Stessa cosa sui neri. Quindi per fare un check del lavoro che abbiamo fatto andiamo ad utilizzare, quindi a imparare a utilizzare uno dei cinque grafici presenti all'interno della color page. Stiamo parlando del primo dell'elenco che si parade o allineamento, se vogliamo dargli un nome in italiano. Clicchiamo su parade e vediamo che cos'è e come si legge. Se vado nelle impostazioni del grafico, quindi proprio nel pulsante a fianco al nome parade, in alto nella prima selezione posso scegliere in quale ambiente visualizzare il parade. Lavoriamo adesso in rgb, quindi lavoriamo qui. Quindi mi troverò il grafico diviso in tre parti, in cui la parte di sinistra viene visualizzato il canale del rosso, quella centrale il canale del verde e quella a destra il canale del blu. Come vengono lette le informazioni sul canale? Vengono lette un po' come nel waveform, cioè sull'asse verticale, quindi con un minimo da 0 a 1023, sta a identificare l'intensità, quindi la quantità di rosso in questo caso, questa è la quantità di verde a salire da 0 a 1023 e questa è la quantità di blu. Quindi l'asse verticale è l'intensità. L'asse orizzontale invece mi specchia esattamente il frame, cioè sul lato sinistro del grafico mi viene rappresentata l'area sinistra del frame, sulla parte centrale mi viene rappresentata l'area centrale del frame e sulla parte di destra mi viene rappresentata l'area di destra. Riapriamo i settaggi, possiamo andare a mettere o togliere il check su colorize, però in questo caso vi consiglio di lasciarlo perché così vediamo esattamente anche in maniera cromatica su quale canale andiamo ad agire. Extend mi mette delle outline, cioè dei bordi sull'andamento della curva in modo tale da identificare bene come sta variando il singolo canale. Io lo tengo disattivato perché mi è più comodo leggerlo in questa maniera. Su quest'area centrale diamo luminosità sia al grafico, cioè quindi posso accendere i verdi, i rossi e i blu in questa maniera, oppure dare luminosità ai righelli, quindi alle linee di separazione per ogni livello, in modo tale da identificarle meglio. Lasciamo i valori di default, posso andare ad evidenziare meglio i reference che nel caso del default sono lo 0 per il punto di nero e il 1023 per il punto di bianco, vedete che vengono evidenziate queste linee. Se io sto lavorando con dei picchi di luminosità che sono diversi da 1023 o dei valori di nero che sono diversi dallo 0, posso andare a fissare dei reference a valori differenti. Supponiamo di portare il black, quindi il nero, a un valore di 30, vedete che il mio reference viene portato qui, adesso cercherò di adattare le mie curve su quel valore di nero, cioè io non voglio il nero assoluto ma voglio un grigio scuro con un'intensità pari a 30. Come facciamo su questa clip? Vado nelle lift, quindi sui neri e vado sulla master wheel e comincio ad alzare la master wheel. La porto su fin tanto che trovo vado a picchiare col punto di nero, vedete è quel punto centrale, direttamente sulla linea dei 30. Allora come possiamo notare in questo caso io avrò il canale del rosso e del verde particolarmente accentuato sulle basse luci rispetto al canale del blu che è basso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ho poco blu sulle ombre e tanto verde e tanto rosso. Se io vado a vedere la mia curva il rosso sta qua, il verde sta qua e il blu sta qua. Se ho poco blu probabilmente avrò molto giallo sulle aree scure. Quindi se voglio bilanciare un po' le mie aree scure, probabilmente c'è troppo giallo, vado sempre sul lift e vado nella direzione opposta al giallo. Quindi vado a dare del blu alle ombre. Vedete che se appena muovo il lift verso i blu si sta alzando sugli scopes la curva dei blu sui neri. Tocco appena un po' in modo tale da far coincidere questi punti con i picchi massimi. Vedete ho modificato e lo vediamo anche da questi valori i tre canali. In particolare ho tolto del rosso, ho dato leggermente del verde ma ho dato molto blu e quindi ho allineato un po' la parte più bassa. Se vado a vedere sui bianchi il problema è ancora più evidente. C'è molto rosso, un po' meno verde e poco blu. Probabilmente qui il bianco non l'avevo fatto correttamente. È un bianco che tende molto anche qui al giallo. Quindi vado sul gain perché in questo caso devo lavorare sulle alte luci e vado a dare un po' di blu e vedete che i picchi massimi della curva del grafico del blu si stanno alzando. Ho alzato un po' il valore del blu. Quindi sono andato un po' a bilanciare la mia immagine anche sulle alte luci. Come vedete ho la zona dei mezzi toni che è molto luminosa. Posso andare a togliere luce ai mezzi toni andando sulla gamma e abbassando vedete i mezzi toni su tutte tre le curve. Tengo a precisare che per esempio quest'area sinistra ho molto verde ma è normale che ci sia molto verde. Vedete che il grafico del verde è più alto rispetto al rosso e il blu perché su questa zona ho dell'erba. Quindi è praticamente normale avere una cosa di questo genere. Bisogna solo stare attenti a prendere i picchi corretti sulle tre curve cioè identificare il punto di nero che sia con i valori di rosso verde blu identici perché se sono identici non ho dominanti di colore sul nero quindi il nero giustamente è nero e non tende a un colore. Stessa cosa con il punto di bianco. Vado a cliccare il bypass color grade. Questa è la clip originale dopo il color management. Questa è la clip corretta. Posso anche utilizzare lo shortcut shift più d per switchare da una scelta all'altra. Vedete che mentre switcho cambia il grafico e possiamo notare che il primo grafico era nettamente sbilanciato. Questo voleva dire che il punto di nero qua era corretto perché sul picco ci rientravo ma sul bianco probabilmente avevo qualche problema. Ora andiamo sulla seconda clip e facciamo la stessa cosa. La guardiamo. Cominciamo a tirare su ad esempio un po le ombre. Posso notare che ho il canale del rosso che è leggermente più basso mentre il canale del verde è molto alto. Quindi posso andare a prendere la mia curva e andare verso i blu leggermente in modo tale che tiro su un po i blu e vado a abbassare un pochino i verdi. Poi vado a dare anche un po di rosso quindi mi sposto verso i magenta leggermente. Adesso vado a vedere il punto di bianco e qui come potete vedere il blu è un po' basso quindi vado sul gain e vado a spostarmi un po' verso i blu. Vedete che si abbassano i rossi e vengono su un po' anche i blu in modo tale che il punto di bianco mi vada a finire sul punto più chiaro della mia immagine. Anche qui faccio un bypass. Vedete questa era l'immagine convertita in color management. Come possiamo vedere aveva delle grosse problematiche sulle ombre così è tutta perfettamente bilanciata. Ora andiamo sull'ultima. Allora questa qui adesso portiamo su anche qui un po le ombre per adattarle al mio valore di 30. Come vedete qui più o meno ci siamo sulle ombre. Se prendiamo questi riferimenti sul picco di sinistra dove è appunto il valore più basso quindi stiamo parlando di questi dove c'è il nero assoluto direi che i tre valori sono più o meno pareggiati e quindi ci siamo. Attenzione però non facciamoci ingannare ora per quanto riguarda i bianchi. Cioè non pensiamo di fare i bianchi su questi picchi perché questo corrisponde al cielo quindi è normale che il cielo abbia una dominante blu con un po più di verde rispetto al rosso perché se c'è un po più di verde rispetto al rosso vuol dire che vado verso i verdi e quindi andrò verso gli azzurri che è corretto perché il mio cielo deve essere azzurro. Stessa cosa su questi picchi qua perché abbiamo anche qui il cielo. Un po ci dobbiamo fidare della pic white point cioè andiamo a prendere il nostro punto di bianco e lo andiamo a fissare su un bianco che per me ad esempio è questo. Qui fisso il mio bianco, vedete che tiro su un po tutto, risistemo tutta la mia clip portando il punto di bianco in maniera corretta. Vedete che il canale del blu sul cielo rimane sempre comunque un po più alto rispetto al canale del rosso. Ora guardiamoci le nostre immagini allora se troviamo ad esempio quest'area che è un po chiara posso andarla a rendere più scura abbassando anche qui l'intensità dei mezzi toni. Bene se hai delle domande sulla lettura del parede di come andare a controllare i punti di bianco e i punti di nero e quindi la rimozione delle dominanti di colore ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara Da Vinci Resolve.